Oggi è il giorno del santo protettore di Caltanissetta, San Michele Arcangelo, ne parliamo con la deputazione di San Michele, con Angelo Talluto che è il presidente. Cosa vuol dire per voi questa giornata, come vi preparate e come l'affrontate? Allora, la nostra festa è a maggio, però collaboriamo pure il 29 settembre per i preparativi e tutto lo svolgimento della festa. Noi pensiamo per la festa, poi ci sono i portatori che portano il simulacro di San Michele. Oggi siete presenti anche alla messa che un po' fa da introduzione alla processione. Noi siamo qua da venerdì, sabato, ieri e oggi. Oggi tutto lo svolgimento della festa, ora c'è la messa pontificata, stasera alle 18.30 c'è la messa e alle 19.30 inizia il percorso. Quest'anno c'è un percorso nuovo purtroppo perché la strada è chiusa, faremo dalla standa a salire via 20 settembre. Fino a arrivare in cattedrale. Cosa vuol dire per un cittadino nistano fare parte della deputazione di San Michele? Per me tanto, perché ho bussato tante volte a San Michele e me lo sono ritrovato. Sono tanti esempi di grazie ricevute? Da parte mia sì, anche dai fedeli, da molti fedeli. Cosa accade durante la processione per quanto vi riguarda? Si parte di qua, facciamo tutto il giro, ci sono delle fermate prestabilite perché i portatori si debbono riposare un pochino. Nella fermata c'è il cambio dei portatori perché sono circa 70 i portatori. Sotto ce ne vanno una ventina, 22 e a giro vanno facendo il cambio per riposarsi e si fa tutto il traggito. Qual è il messaggio per i devoti? Di avere molta fede per San Michele perché penso che aiuti a tutti.